Oggi la Lega Ambiente ha presentato osservazioni relative al progetto industriale Pizzone II dell'Enel. Occorre aprire il dibattito alla popolazione e alle forze del territorio. Il parlamentare Claudio Lotito, senatore di Forza Italia, in Molise per l'organizzazione politica che precede i congressi regionali fissati domenica 26. Forti critiche da parte di CGL e UIL sulla legge finanziaria dello Stato, fondi nazionali sottratti alla crescita sociale e occupazionale del centro-sud. Probabilmente mercoledì della prossima settimana tornerà lo stadio di Tella la sfida di calcio tra Vasto Girardi e Campobasso, interrotta per nebbia a metà primo tempo. Ben ritrovati al telegiornale di TLT. Come dicevamo dai titoli, la Lega Ambiente entra in merito al progetto dell'Enel denominato Pizzone II. Presentate le loro osservazioni, chiedendo una ridefinizione del percorso realizzativo dell'intero impianto. Seguiamo il servizio. Lega Ambiente, nelle sue realtà territoriali, nazionale e regionali di Abruzzo e Molise, ritengono sia necessario ed urgente proporre alcune osservazioni circa la definizione di un impianto da realizzare per conto dell'Enel nell'area in provincia di Sernia attraverso il progetto Pizzone II. Le osservazioni rispondono alle varie criticità che sono presenti nel progetto e che devono essere superate. E suggeriscono un dibattito pubblico ed un tavolo di confronto per coinvolgere le comunità locali, le aree protette e le varie realtà territoriali. Certo non è facile entrare dentro oltre 2000 pagine di progetto. Noi l'abbiamo fatto, quindi ci siamo presi il tempo necessario, quindi ci scusiamo di non averlo fatto prima, però abbiamo fatto osservazioni di merito e su questo chiediamo a Enel innanzitutto di prenderla in considerazione, alle regioni Abruzzo e Molise di fare le giuste valutazioni, così come dovrà fare poi il Ministero rispetto alla valutazione d'impatto. Bisogna coinvolgere di più i cittadini, bisogna fare il dibattito pubblico vero, portando a conoscenza delle questioni di merito, così vengono sgonfiate tutte le fake news che spesso si sentono. Noi siamo favorevoli alle rinnovabili. Questo tipo di impianto in linea teorica è fondamentale per garantire la continuità dell'esercizio degli impianti rinnovabili, perché se di notte l'eolico non funziona, non funziona il solare, non è che accendiamo di nuovo il gas. Noi siamo contro il gas perché è il primo fattore di degrado del pianeta rispetto alle energie fossili. Quindi bisogna fare delle scelte, ma le scelte si fanno avendo consapevolezza di quello che viene proposto e imponendo misure drastiche di valutazione. Questo è fondamentale. Diciamo le cose come stanno, chiamiamole con loro nome. In realtà accanto ad una necessità molto forte di una politica ambientale, spesso e volentieri la risposta anche delle istituzioni è quella di ignorare completamente il problema e di fare delle scelte che spesso e volentieri sono delle teorie. Non ci aiutano le leggi. Noi abbiamo chiesto una legge sul dibattito pubblico ed è stata fatta male. Quindi in questa occasione noi chiediamo a Enel di farlo fino in fondo, farlo bene, portare a conoscenza fino in fondo i dettagli del progetto. Non a caso Enel ha sospeso la valutazione perché si è resa conto di aver commesso degli errori nel percorso iniziale. Questo non significa che tutto quello che viene proposto va bene? No, assolutamente. Bisogna entrare nel dettaglio, spiegare, far capire alla popolazione perché ad esempio chiudere il lago come era previsto alla fruizione è un errore che speriamo venga valutato meglio. Prevedere una potenza di un certo tipo se non è compatibile con un territorio fragilissimo è un errore. Quindi tutte queste cose possono essere riprese facendo scelte progettuali più adeguate ad un contesto straordinario, fragile e che però deve tener conto anche di altre esigenze. Un automobilista ferito al volante di una Fiat 500 L è stato ricoverato nel nosocomio termolese del Santimoteo. Oggi a causa di un violento sinistro stradale in prossimità dell'ex zuccherificio sulla statale 87, danni ingenti all'utilitaria nell'impatto contro un camion, notevoli sono stati disagi al transito sul litorale adriatico. Oggi il Molise ha dato l'estremo saluto a Vincenzo Ferro, imprenditore lungimirante, capostipite della rinomata famiglia di Pastai del capoluogo. Nella chiesa di Sant'Antonio di Padova a Campobasso, oggi l'ultimo saluto all'imprenditore Vincenzo Ferro, spentosi all'età di 88 anni, una persona lungimirante preparata che ha contribuito alla crescita industriale, economica e sociale del Molise. Il suo esempio è stato seguito dai figli Giuseppe Rossella I per il passaggio di testimone dell'azienda di Contrada Colle delle Api e dai nipoti poi. Imprenditore lungimirante Enzo Ferro è stato anche appassionato di sport, arte e cultura, capace di investire, come pochi altri, nella sua regione. In questi giorni si moltiplicano le condoglianze di molti esponenti del mondo politico e industriale di quello sportivo molisano, protagonista attivo della storia imprenditoriale locale per lunghi decenni. Passiamo alla politica. Il coordinamento regionale di Italia Viva si è riunito dopo l'assemblea elettiva che ha portato Angelo Santolo al vertice del partito in Molise. L'obiettivo del partito centrista è quello di dare identità al movimento politico di Italia Viva, partecipando col proprio simbolo alle elezioni amministrative del 2024 al progetto di Matteo Renzi. A proposito sempre di politica, Claudio Lotito in Molise per organizzare i congressi di Forza Italia. Il parlamentare laziale ha incontrato la delegazione forzista in regione. è eletto nel 2022 nel collegio uninominale regionale, poi nominato dal leader di Forza Italia Berlusconi, coordinatore degli azzurri molisani. Ieri pomeriggio a Campobasso Lotito ha incontrato prima la delegazione forzista in regione, poi i dirigenti per organizzare i congressi provinciali del partito che il 26 novembre eleggeranno i coordinatori. Non sono mancate le domande sulle provinciali che hanno visto sconfitto Razio Civetta, un risultato di cui lo stesso Lotito non fa un dramma. Non si devono assumere posizioni di carattere personale. La scelta è stata una scelta motivata da un fatto molto semplice. Si parlava di rappresentanza sul territorio in relazione al riscontro elettorale. Fratelli Italia ha ritenuto che dovesse in qualche maniera scegliere il ruolo di presidente della provincia di Sernia e Forza Italia, visto che aveva un candidato in essere, perché facente funzione il presidente, come voi Civetta faceva il presidente, era già vicepresidente quando la carica di presidente la ricopriva Roberti, quindi in segno di continuità e anche di considerazione per l'operato della precedente gestione è stato scelto, anche perché è stato scelto appunto il candidato esistente, cioè che era in essere. Ma tra altre cose aggiungo che poiché ritenere la possibilità di poter cambiare quello che sarà il sistema elettorale delle province, rifarle chiaramente e riassumere un sistema elettorale storico che era quello in elezione diretta, probabilmente, sicuramente rappresentava questo un elemento di transizione, quindi questo dato politico io non lo vedo come un dato, come dire, in qualche maniera eclatante dal punto di vista di scontro. Quanto alle amministrative, i candidati sindaci di Campobasso e Termoli saranno individuati secondo criteri ben definiti. Non abbiamo ancora affrontato questo tema, il tema che sarà affrontato oggi è un tema al Palazzo della Regione per parlare dei congressi e soprattutto per creare un percorso che abbia una visione concreta di quello che bisogna fare a breve e a lungo termine. Sulla base di questo è chiaro che la scelta del candidato sindaco e dei due candidati sindaci dovrà essere all'insegna della professionalità, della capacità, della determinazione per affrontare i problemi. Nell'aula a Magna dell'Università del Molise a Campobasso oggi si è svolto l'incontro La Costituzione Aperta a Tutti, un evento aperto a studenti, scuole e cittadini, servito per far conoscere il valore della Carta Costituzionale e promuovere la cultura giuridica tra la gente. Continua la positiva sinergia nata tra l'Avis, l'Admo e la scuola allievi carabinieri del capologo molisano. Le due associazioni hanno incontrato su invito del colonnello dell'arma Bruno Capece, comandante della scuola carabinieri, i giovani militari per sensibilizzare sul tema della necessità di diventare donatore di midollo osseo e cellule staminali. Al termine dell'incontro 36 allievi hanno deciso di sottoporsi ad un piccolo prelievo di sangue. Passiamo alla pagina sindacale, Cigelle e Will hanno proclamato per venerdì di questa settimana uno sciopero nazionale di otto ore al fine di sostenere una politica economica, sociale e contrattuale adeguata. Un'azione di lotta contestata dal ministro Salvini e da gran parte del governo. Il ministro Salvini, insieme a gran parte del governo e dal suo partito la Lega, contesta fortemente la proclamazione da parte della CGL e della Will dello sciopero generale nazionale, un'azione di lotta che vuole sostenere una diversa e migliore politica economica, migliorando le condizioni sociali e strutturando le varie fasi contrattuali. Una politica che considerano necessaria ed urgente, vista la dereteria manovra governativa. L'astenzione al lavoro di otto ore è comunque confermata per venerdì 17 novembre, nonostante alcune obiezioni della commissione di garanzia per gli scioperi. Ci sono dei problemi ma c'è stata un'ingerenza, a nostro punto di vista, inopportuna del ministro Salvini e della Lega, perché il ministro può precettare nella fase iniziale soltanto quando ci sono delle calamità naturali. Chi deve decidere invece è la commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi essenziali e ci sono state invece delle pressioni prima che dal nostro punto di vista non sono state corrette. E dal nostro punto di vista lo sciopero è assolutamente legittimo rispetto a quello che prevede la normativa di legge. E' per questo che la CGL e la Wille hanno deciso di andare avanti nello sciopero generale del 17 novembre. E le motivazioni ci sono tutte perché è uno sciopero contro la legge di bilancio, una legge di bilancio che non dà nulla, non mette nulla in tasca dei lavoratori dipendenti perché a differenza di quello che si dice si mantiene soltanto le norme che ci sono in relazione al taglio del cuneo fiscale e quindi il lavoratore non vedrà più soldi in busta paga per il cuneo fiscale perché ogni volta la manovra viene ripresentata anno per anno e deve essere rifinanziata anno per anno. Oltretutto non ci sono le risorse sufficienti per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, quello che è stato messo una miseria dal nostro punto di vista, tra l'altro contratti del pubblico impiego che di solito sono la testa da riete per il rinnovo dei contratti privati e tutti noi sappiamo quanto oggi i lavoratori dipendenti hanno perso in termini di potere d'acquisto con un'inflazione che oramai è un'inflazione galoppante da diversi anni. Si taglia l'assegno pensionistico a 700.000 lavoratori che andranno in pensione nei prossimi anni, insegnanti, medici, lavoratori delle autonomie locali, per tutti i lavoratori che devono andare in pensione si peggiora addirittura la legge Fornero, altro che i miglioramenti e smantellare la legge Fornero. La legge Fornero viene peggiorata, si mettono dei requisiti ai quali aderiranno pochissime persone, quota 103 con il ricalcolo del sistema tutto contributivo significa far perdere nelle buste paga dei lavoratori tantissimi soldi quando andranno in pensione, stessa cosa per opzione donna. Una norma finanziaria tra l'altro che non dà sviluppo perché ci sono interventi ad esempio sulla decontribuzione alle imprese dove persino Confindustria dice che questa manovra a loro non serve in questo periodo, serve invece dare risorse per la transizione energetica, per la riconversione delle imprese, per sostenere il sistema industriale in maniera mirata. Si tagliano soldi nel mezzogiorno perché nella bozza della legge finanziaria vediamo come si tagliano risorse alla velocizzazione della linea ferroviaria sull'alta velocità da Ancona a Bari e quindi passando anche per il Molise e sappiamo il livello delle nostre infrastrutture in Molise, a che livello siamo. Quindi una legge finanziaria che non dà risposte ai lavoratori, non dà risposte ai pensionati, non aiuta lo sviluppo, non aiuta l'occupazione e poi tutto questo fa il pari con la politica del governo che ad esempio con il progetto di autonomia differenziata, con i progetti di riforma anche costituzionali a nostro punto di vista si sta prendendo una direzione contraria a quelle che invece dovrebbe essere eseguita. Sempre venerdì 17 in programma la Bibbia o Mediateca di Via Roma a Campobasso la rassegna Vivere con Cura, oggetto dell'evento la cura dei rapporti umani e dell'ambiente, tra i temi anche l'incontro con Giovannino Cornacchione, autore del volume Oltre la via, appuntamento fissato alle 18 e 15. Novembre è il mese dedicato alle iniziative di sensibilizzazione per il cancro del polmone tra le diverse. Illumina novembre, giunta alla nona edizione. Lo scorso anno sono stati 206 comuni della penisola che hanno preso parte all'iniziativa il comune di Termoli, in segno di adesione alla campagna di sensibilizzazione, illuminerà venerdì 17 fino a lunedì 20 il municipio di Via Sannitica. Il Governo nazionale sposta ingenti somme dalla linea ferroviaria adriatica alla Milano-Genova, Pesanti ripercussioni per i viaggiatori di Puglia, Molise, Abruzzo, Marche e Romagna. Andiamo a vedere. Per le forze sindacali abruzzesi la legge di bilancio dello Stato taglia altri 350 milioni di euro destinati all'alta velocità sulla linea ferroviaria adriatica. Un vero e proprio scippo del Governo di centrodestra di Giorgia Meloni, il commento di CGL Cisle Will, la velocizzazione della linea adriatica, considerata tratta strategica nella rete transeuropea di trasporto, prevedeva una spesa complessiva di 5 miliardi spalmati fino al 2035. La legge di bilancio penalizza ulteriormente il sistema infrastrutturale regionale, viario e ferroviario già deficitario rispetto al resto della penisola. Le risorse in questione, 350 milioni, saranno girate secondo i ben informati all'alta velocità sulla tratta Milano-Genova, con buona pace dei viaggiatori sulla costa adriatica del paese Molise, Abruzzo e Puglia, comprese il sistema dei trasporti in Abruzzo, costituirà uno dei temi oggetto della manifestazione regionale che si terrà venerdì 17 a Lanciano, nell'ambito dello sciopero generale nazionale proclamato dalle sigle sindacali. Alcune zone di Campobasso da domani mattina resteranno senza energia elettrica, a partire dalle ore 9 fino alle 16. La sospensione temporanea interesserà soprattutto le contrade San Giovanni in Golfo e Colle delle Api. L'interruzione di energia elettrica sarà a carico dei soli utenti alimentati in bassa tensione. Anche quest'anno in occasione delle festività natalizie tornano le iniziative benefiche dell'AIL, l'Associazione Italiana Leucemie. Dall'8 al 10 dicembre nelle piazze italiane sarà possibile acquistare le stelle di Natale per sostenere la ricerca medica sui tumori del sangue. Adesso come ogni giorno spazio al meteo! Metalimpianti Carpenterie metalliche civili e industriali Scale, acciaio corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio Metalimpianti Boiano Info 0874 77 34 54 La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo Pressione stabile sul centro Italia, cielo poco nuvoloso o velato, le temperature odierne in Molise sono comprese tra la minima di 12 gradi a Disernia fino alla massima di 19 a Campobasso Per l'Abruzzo dai 10 gradi di Teramo ai 22 di Chieti Ventilazione settentrionale, mosso il medio adriatico Generali condizioni di bel tempo domattina sulle due regioni Valori atmosferici stazionari, correnti di direzione variabile Iniziamo dal calcio, la pagina sportiva, manca solo l'ufficialità da parte della Lega di Serie D ma dovrebbe recuperarsi mercoledì 22 la sfida tra Vasto Girardi e Campobasso Nel frattempo si libera un'altra panchina nel girone F, quella dell'Alma Fano Il Campobasso è tornato a lavoro al comunale di Campo di Pietra in vista del dodicesimo turno di campionato In programma la sfida al Fossombrone Dovrebbe recuperarsi invece il 22 di novembre il derby al Ditella contro il Vasto Girardi bloccato al 26esimo per l'eccessiva nebbia Dunque all'orizzonte un calendario fitto ed impegnativo per gli uomini di Rosario Pergolizzi Domenica 19 atteso il Fossombrone, mercoledì 22 novembre il recupero con il Vasto Girardi Il 26 invece la trasferta in quel di Riccione per poi affrontare il turno di Coppa Italia contro il Fano il 29 Gara in cui con molta probabilità avranno spazio le seconde linee in virtù dello scontro diretto contro la San Benedettese in programma il 3 dicembre Questo è il quadro che andrà delineandosi in attesa soltanto della comunicazione ufficiale da parte della Lega Nel frattempo è ufficiale la separazione tra Marco Scorsini e l'Alma Juventus Fano le strade si sono separate consensualmente come ha reso noto la società Granata tramite un comunicato apparso in mattinata sui social Con al timone il nuovo tecnico Simone Marmorini il Vasto Girardi visto nelle ultime settimane ha voglia di migliorare la classifica ed avere un atteggiamento in campo più propositivo L'analisi del giovane tecnico gialloblu anche in vista della trasferta a piedi punte in Matese Ascoltiamolo Non abbiamo rischiato quasi nulla se non su una punizione dal limite che è l'unica cosa che abbiamo concesso E' l'unica situazione che abbiamo concesso Abbiamo avuto sicuramente l'atteggiamento di chi voleva portare a casa punti oggi Era determinante perché quando affronti avversari di valore come il Campopasso non puoi non avere quel tipo di atteggiamento Prossima partita con il Matese in trasferta, un campo molto difficile I ragazzi stanno dimostrando ogni giorno durante la settimana che vogliono crescere, vogliono migliorare la loro, la nostra posizione Non parlo solo di classifica ma anche di quello che stiamo proponendo sul campo C'è voglia di crescere giorno per giorno E mi aspetto che anche domenica possiamo avere il giusto atteggiamento Anzi sicuramente avremo il giusto atteggiamento Perché siamo consapevoli di andare a affrontare una squadra molto ostica Soprattutto sul proprio terreno, sul terreno casalingo E tra l'altro in questo momento è anche uno scontro diretto E credo che sarà anche una partita intensa perché l'avversario lo richiede E noi ci faremo trovare pronti Sempre per il calcio di quarta serie Intensità e gioco a viso aperto Quello del Termoli messo in mostra sul rettangolo di gioco a Notaresco Per i giallorossi è mancata solo la lucidità Sotto porta Ho visto al di là del risultato positivo Una squadra propositiva Una squadra che comunque è venuta a giocarsi la partita a viso aperto E a mio avviso ha fatto un gran bel primo tempo Dove si meritava qualcosa in più Diciamo che dobbiamo essere più bravi sotto porta Più cinici E avere questa intensità Su tutta la durata della gara Ecco, infatti nel secondo tempo Cos'è cambiato nell'approccio alla partita? Perché nel primo tempo avete avuto anche un'occasione importante per passare in vantaggio Avete pressato molto Poi nel secondo tempo è venuto un po' fuori il Notaresco Sì, ma diciamo che per quello che è il mio credo di calcio È quello che si è visto nel primo tempo Ho cercato di lavorare questi quattro giorni Sull'intensità, sulla mentalità È normale che poi non è semplice Tenere un ritmo altissimo per 90 minuti Però bisognava essere un po' più bravi e più lucidi Sulla gestione della palla, sul palleggio Perché voglio dire, la squadra ha risposto bene Il secondo tempo si è un po' abbassata E non ce lo possiamo permettere Perché le nostre caratteristiche Sono quelle dell'intensità Di andarli a prendere alti E di esprimere un gioco con un ritmo alto Ma sicuramente non sarei qua Non sarei qua E non credo nemmeno che sia un miracolo La classifica è cortissima Ci sono più di 20 partite da giocare Il campionato è lungo Io credo che se si continua a lavorare Con questo ritmo, con questa mentalità Credo che ce ne possiamo uscire quanto prima Da questa classifica La cosa importante è recuperare tutti E lavorare, avere più scelte a disposizione Quindi ci auguriamo quanto prima Di domenica, recuperiamo Cagliazza Che sconta la terza giornata di squalifica E credo che si recupererà anche Sposi Dovremo martedì come sarà Quindi avere una rosa più ampia Ci possono essere più scelte a disposizione Continua a vincere la San Benedettese Che contro il Matese conquista altri tre punti Primo posto saldamente Nelle mani dei ragazzi di Mister Lauro Cardoni Che la restituisce ancora da Alessandro Dal vertice Il cross di Alessandro Ci parla Tomassini di testa Resta lì il pallone Allora Cardoni In mezzo per Alessandro E la rete della Samb La sblocca Tomassini Buona la palla Per Tomassini Di Arrigoni Tomassini Solo contro Palumbo C'è il fallo Calcio di rigore Netto Atterrato Tomassini Cartellino giallo Stavolta per Guarino Parte la rincorsa di Arrigoni E la palla in rete Per il 2-0 della Samba Andrea Arrigoni C'è Barberini da quelle parti Palla dentro per Romerone di Tacco La palla perfetta Il 3-0 della Samba Finisce 3-0 Per il rosso-blu Tomassini Arrigoni Pagliari E chiudiamo la panoramica Con il calcio di Serie D Contro il Riccione Alla meglio il Chieti Che si impone 2-1 I Neroverdi Sotto di un gol Dopo aver trovato il pari La ribaltano nei secondi 45 minuti 3 punti d'oro del Chieti Che a Riccione Va subito sotto Poi pareggia E infine vince una partita complicata Grazie alla solita caparbietà E determinazione Mostrando anche buone trami di gioco Il successo consenta I Neroverdi Anche oggi in completo bianco Di tenere il passo Della capolista San Benedettese Che domenica Arriverà all'Angelini Per il big match di giornata Chienese ha diverse assenze Diambo, Benigni Ardemagni Barbetta Romagno Ed Ancora In avanti Debutto per Paletta Classe 2004 Dal primo minuto Anche Marino In difesa Pronti via E la squadra di Riolfo Va in vantaggio Con Ferrara Al suo settimo centro stagionale L'attaccante Sfrutta un assist Di un compagno E trafigge Serra Chieti Stordito La squadra Ci mette un po' Per reagire Lo fa al 22esimo La Zizza Si mette in proprio E lascia partire Una conclusione Che esce di poco Fioccano intanto Le ammunizioni La gara rischia Di nervosirsi Sul tacuino Dell'arbitro Di Renzo Di Bolzano Finiscono Falla Marino E Salvatore Per il Chieti E Diurici Per il Riccione Al quarantesimo Il pareggio Neroverde Traversone di Marino Su cui si inserisce Salvatore Che insacca E festa grande Per i cento Sostenitori Neroverdi Arrivati nel piccolo Campo di Riccione Con le immagini Di Alberto Capo Passiamo alla ripresa Quinto minuto Riccione in avanti Conclusione Pericolosa In piena area Di Napolitano Ribattuta in calcio D'angolo Sugli sviluppi Conclusione Dal limite Di Ferrara Serra Controlla Iniziano i cambi Esce Falla Per Mancini E poi Di Sabatino Per Paletta Il Chieti Inizia a prendere campo E al 33esimo La ribalta Sul corner Spunta la testa Di Postiglione Che gonfia Di nuovo la rete E il gol vittoria Importantissimo Il Chieti Non vinceva in trasferta Dal 24 settembre 1-0 a Riano Contro il Roma City E' il modo migliore Per prepararsi Alla super sfida Di domenica Alla capolista San Benedettese Calcio a 5 Under 19 Il Cus Molise Supera agevolmente Il Sulmona 9-0 In terra aquilana E dimentica La battuta D'arresto Contro il Chieti Un successo Che proietta I molisani Nella seconda Trasferta consecutiva Sempre in Abruzzo Domenica Sul campo Dell'Academy Pescara Siamo in chiusura Domenica 19 A San Salvo Si svolgerà La gara podistica Denominata Donne in Corsa Una iniziativa sportiva Cura dell'Atletica Velo Club Della cittadina Abruzzese Questa mattina In Municipio La presentazione Dell'evento Partenza da Piazza Papa Giovanni XXIII Al 9.30 E con questa Notizia di Podismo Chiudiamo il nostro Telegiornale Grazie e arrivederci A tutti Grazie a tutti